Questa è l'area proprio al ridosso del lungo fiume dove l'Istituto Zooprofilattico sta realizzando un parcheggio. Il WWF è contro quest'opera, perché? Allora, intanto al di là di quelle che possono essere le indicazioni individuate dal piano regolatore, il problema è sempre, come dire, il solito, che ci troviamo davanti a una pianificazione forse un po' vecchia e uno stile di vita, una serie di interessi che sono modificati nel tempo. Si parla molto di cambiamento. Noi cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo che un ente, anche come lo Zooprofilattico, che ha, come dire, un'eccellenza anche nel campo della ricerca ambientale, si fermasse un momentino e provasse a poter implementare quelle che sono le azioni di mobilità sostenibile. Per esempio, fare una serie di controlli, di azioni, di informazioni nei confronti dei propri dipendenti, come arrivano al lavoro e quindi cominciare a implementare attività che possono eliminare le auto, non incentivare. Soprattutto l'idea, comunque, di cementare quella che è una parte di verde, un taglio di tutta la vegetazione ripariale. Perché lì c'erano anche degli orti e degli alberi prima dell'inizio del lavoro. Guardandolo chiaramente, chi passa se lo ricorderà, era una parte di fiume ricca di vegetazione ripariale, di una serie di orti, di una serie di alberi. Ora, cementare quella zona ci sembra che vada contro l'idea di consumo zero del suolo, che era il grande obiettivo che la nuova giunta d'Alberto aveva posto. I lavori sono partiti, di fatto. Lì probabilmente il parcheggio ci sarà. I lavori sono partiti, probabilmente il parcheggio ci sarà, certo. Però quello che ci poniamo è questo. L'abbiamo segnalato proprio per questo motivo. Cioè, se vogliamo davvero portare avanti un modo diverso di stile di vita nella città, se il cambiamento deve arrivare anche nelle piccole azioni, Allora, questo è un esempio classico dove ci si poteva fermare un secondo e provare veramente a dare un senso diverso a quella zona e anche a cambiare il modo come approcciamo il nostro movimento nel lavoro, la nostra mobilità nel lavoro.